Oggi voi sentirete il passio, un lungo racconto della passione di Gesù. Mel Gibson l'ha raccontata e sono stati versati i fiumi di sangue. Voi leggete la passione, non c'è una goccia di sangue. Non c'è nessun accenno alle sofferenze fisiche di Gesù. Ma tutto quanto viene narrato dal punto di vista della comprensione o dell'incomprensione di chi Gesù sia o di ciò che Gesù abbia fatto o non fatto. Certamente chi narra ha in testa il problema della comprensione e quindi rilegge gli avvenimenti con questo criterio, cogliendo momenti in cui Gesù è stato capito, vedi la prima fase dei due processi di Pilato, nella prima fase Pilato l'ha capito benissimo, poi si è arreso. Ma per tre volte Pilato cerca di liberare Gesù. Durante l'agonia di Gesù non viene messa in evidenza le sofferenze dei chiodi, della flagellazione, della mancanza di acqua, la sede, ma che? Viene messa in evidenza la presa in giro dei presenti nei confronti di questo moridotto. Quindi voi oggi ascolterete la passione con gli occhi di chi ha visto e ha narrato. Non la vedrete in maniera diversa da quello che è scritto. Detto questo, comprendiamo bene che il dire, il nostro dire la verità, è un'azione. Ed è un'azione che ha a che fare con la coscienza. Perché io posso tacere ciò che ho visto e quindi manipolare l'avvenimento. E rendo l'altro presente all'avvenimento in maniera distorta. Tutto questo sta dietro alla parolina Dabà. Parola avvenimento cosa? Il passo successivo è di tipo teologico. Ed è grave. Perché per il mondo biblico Dio agisce nella storia. E questa azione è una comunicazione non verbale. Noi quando comunichiamo, comunichiamo in due modi, in maniera verbale e non verbale. Dio comunica spesso in maniera verbale per i profeti, ma molto più spesso in maniera non verbale per gli avvenimenti che noi viviamo. Tradurre gli avvenimenti in concetti significa ascoltare la parola di Dio che è la vita. Quando io testimonio il falso io sto dicendo un avvenimento che non c'è. Contemporaneamente è come se io dicessi Dio si è comunicato attraverso questo avvenimento che vi sto narrando. ma quello che stai narrando è falso. E quindi Dio non ha mai detto quella parola che tu adesso pronunci. E poi c'è che fai diventare bugiardo Dio stesso attraverso la tua bugia. questo si chiama sacrilegio. Capite? Dietro a questo comandamento c'è tutto questo meccanismo. Non c'è solo dunque il danno che tu fai al tuo dato e anche il danno che tu fai al giudice perché allora i giudici tutti quanto sbagliavano pagavano. E pagavano malissimo. voi pensate che nelle leggi a Sire se il giudice sbagliava la condanna e condannava la morte dell'imputato e poi risultava sbagliata o veniva ucciso lui o un suo figlio. Poi la forma giuridica di quarta responsabilità e giudiziaria è cambiata nel tempo. Oggi noi abbiamo una a meno questo ciò che io so e non so se so tutto abbiamo la responsabilità del giudice quando è dimostrato il dolo del giudice. Ma non è contemplata per esempio la poca attenzione nel reperire testimoni nell'interrogare i testimoni e nel rendersi conto se i testimoni sono credibili o meno. questo è una zona inesplorata come responsabilità del nostro ordinamento giuridico. Giusto non giusto non spetta mai giudicare però diciamo che nel mondo orientale a tutto le cose erano strettamente molto più crude e sedere. se questo dunque obbliga il cittadino ebreo ad essere sincero nella testimonianza giuridica e tribunale contemporaneamente contemporaneamente obbliga ad essere sincero il credente che c'è in lui perché la sua testimonianza falsa renderebbe Dio bugiato in quanto Dio avrebbe fatto o presenziato un'azione che non è mai esistita. Bene per capire quanto vi ho detto vi ho riportato due testi uno appartenente alla storia deuteronomistica e l'altro appartenente invece alla legislazione deuteronomistica. La falsa testimonianza porta alla morte sì vediamo gli uomini della cittadinato gli alziani e i notabili che abitavano nella sua città fecero come aveva ordinato loro Gelsadele questa è la moglie del re il re voleva la vigna una vigna che si trovava proprio sotto la reggia ma quella vigna era di un contadino il quale dice no non te la vendo primo perché non ho bisogno di soldi e secondo perché la vigna che era esitato da mio padre da mio nonno da mio bisnonno fino ad Adamo ed Eva e quindi è un patrimonio di famiglia anche addettivo non solo economico dunque no e lui resta male di questo rifiuto la moglie che non era ebrea era fenicia le dice va bene che si va uco fa in modo che venga accusato di blasfemia viene condannato a morte e tutti a proprie della vita il re accetta Gezzabele immediatamente scrive agli anziani e ai notabili e dice nella lettera che si trova prima del brano che noi stiamo leggendo si dice fate così e così e adesso vediamo ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito bambirono il digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo e giunsero i due uomini perversi che sedettero di fronte a lui costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando Nabot ha maledetto Dio e il re lo condussero fuori della città e lo lapidarono e lei morì quindi mandarono a dire a Jezabele Nabot è stato lapidato ed è morto appena Jezabele sentì che Nabot era stato lapidato e che era morto disse ad Acab su prendi possesso della vigna di Nabot di Israele il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro perché Nabot non vive più e è morto quando si è chiuso da Nabot era morto Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israele a perdere possesso dove sta l'inghitto alla linea 34 giunsero due uomini perversi si può tradurre anche impostori va bene lo stesso e hanno dunque testimoniato il falso è evidente perciò dove giunge la testimonianza falsa in tribunale perché in questo caso il digiuno sta pubblico l'accusa è pubblica immediatamente i giudici presenti e vendono una sentenza invece il brano della legislazione deuteronomistica siamo orientativamente alla fine del settimo secolo inizio del sesto poco prima dell'esilio di Babilonia i giudici indagheranno con diligenza e se quel testimone risulta falso perché ha deposto il falso contro il suo fratello farete a lui quello che gli aveva pensato di fare al suo fratello così estirperai il male in mezzo a te gli altri verranno a saperlo e ne avranno paura e non commetteranno più in mezzo a te una tale azione malvagia certamente l'impiato giudico israele era serio la prassi sappiamo che non era così ma la legge era questa noi invece abbiamo preso questo comandamento e lo abbiamo talmente allargato da tradurlo più o meno così non mentirai mai quando noi leggiamo non dire falsa testimonianza diciamo non dire bugia problema qui è morale risente in parte della mentalità biblica fai dire a Dio quello che Dio non ha mai detto perché anche per il cristiano la storia è parola di Dio e quindi mentire in ogni circostanza è sempre far dire a Dio ciò che Dio non ha detto questa è una cosa importante ma il problema è ci sono circostanze in cui nasce veramente il dubbio di coscienza il ragazzotto viene a casa con tutti quattro il papà arriva la sera con cento diavoli per capello perché il tappo ufficio lo ha fatto penare tutto il giorno e il papà dice il mociaccio ha portato a casa la pagella cosa fa la madre se le dice sì viene fuori in amacelleria perché il figlio non ha fatto il suo dovere e il padre è alterato se dice no mente capite che la vita non sempre mette nelle situazioni di essere delle mamolette morale qui scatta il grosso problema della libertà della coscienza e della valutazione glielo può dire dopo giorno dopo due giorni dopo quando il padre è spollito da questa situazione di tensione che lui ha vissuto nel lavoro la reazione sarà anche dura ma non sarà sproporzionata perché il papà si trova in una situazione di equilibrio quando invece uno è esasperato dal lavoro l'equilibrio potete sognarvelo capite che in questo caso la persona della madre deve fare una serie di valutazioni che non riguardano solo un valore il valore della verità ma deve salvaguardare anche l'armonia della famiglia deve salvaguardare la giustizia nel rapporto padre figlio tacera non può non può dire no il figlio non ha mai portato a casa la pagella e dirgli questo per tre mesi ma non può neanche dire in quella circostanza si l'ha portata e ha fatto una figura dunque nella vita il problema della sincerità non è un problema facile poi c'è sempre qualcuno che dice ah io dico la verità a chiunque ovunque non è un vanto non è un vanto perché nel cristianesimo nessuna virtù è isolata dalle altre perciò la verità va coniugata con il rispetto la carità va coniugata anche con scusate la verità va coniugata anche con la carità non puoi prendere una virtù e assolutizzarla diventa un difetto per questo quando noi impariamo i comandamenti da bambini sarebbe molto opportuno che poi li ripassassimo da adulti perché il bambino queste cose non gliele può spiegare il bambino ha problemi di altro genere chi ha rotto il vaso della marmellata ma non ha problemi delicati di questo tipo bene abbiamo posto il problema la soluzione la farà il professore di morale però abbiamo capito molto bene che molto spesso noi adulti non possiamo essere così ingenui da dire la mia scelta va tra il bene e il male molto spesso ci troviamo a scegliere solo nell'area del male e allora dobbiamo saper usare in maniera sapiente il criterio del male minore che sarebbe l'unico bene possibile in quella circostanza detto questo noi lasciamo questo comandamento ed entriamo in un altro comandamento non desidererai la moglie del tuo prossimo quindi donne siete esempi credo che non abbiate una potenzione di tipo saffico e allora il discorso cambia mi sono accorto che esistono parecchie donne che hanno questa propensione perché le sto seguendo ed è un mondo delicatissimo quando parleremo dell'argomento diremo qualche cosa oggi siamo qui al versetto 21a e 21b non bramerai la donna del tuo prossimo ora tutto quanto il problema sta in questi due blocchi letterari nel subsintagma verbale bramare e nel subsintagma nominare donna del tuo prossimo quasi fosse un possesso perché in oriente era così la donna è un possesso stato sta che la si compriva si pagava il padre per tutto ciò che il padre aveva speso per crescere la ragazza renderla idonea a gestire una famiglia e quindi zack si pagava per questo motivo l'uomo e solo l'uomo aveva allora la possibilità di recedere dal matrimonio e quindi ripudiava la moglie la moglie non aveva questa capacità giuridica perché la moglie non aveva compiato il marito io compro un prodotto il prodotto non mi va lo rimango ci rimetto i soldi ma lo rimango quindi si parla di una donna che si trova in una situazione sociale particolare è moglie ed è possesso certamente da quel povo che noi conosciamo questa seconda dimensione non veniva evidenziata nei rapporti interpersonali tra marito e moglie anzi è un aspetto odioso che noi per esempio nel Cantico dei Cantici non troviamo il Cantico dei Cantici è un po' la summa erotica dell'amore così come veniva visto dalla mentalità biblica bramare questo verbo principiale e adesso proviamo a incominciare l'esplorazione no meglio ne incominciamo dopo